Gli ammiratori di Cristina D'Avena hanno vinto, la regina infatti delle sigle dei cattori animali per eccellenza sarà ospite nella serata della 66e edizione del festival di Sanremo. Un nuovo palco per la cantante bolognese che ha all'attivo più di 7 milioni di ischi venduti e più di 700 canzoni scise, una partecipazione richiesta da prima dal portale All Music Italia e successivamente via Twitter attraverso un hashtag che ha avuto un successo clamoroso proprio nel social network del uccellino. Crediamo che Cristina D'Avena meriti il riconoscimento di calcare il festival di Sanremo 2016 in qualità di super ospitar pari di altri cantanti pop, perché le sigle dei cartoni animati sono la prima forma di musica che ascoltiamo da piccoli, sono parte del patrimonio culturale musicale italiano e merito di essere cerebrali nella manifestazione musicale più importante del nostro paese. Un appello questo che avrebbe ricevuto molti, moltissimi consensi in pochissimi giorni di tempo, accolto anche dal presentatore italiano Carlo Conti Toscano che avrebbe confermato la presenza di Cristina D'Avena per la serata conclusiva del Kermes Canora. Sul palco dell'Aristona cantante indosserà abiti di Vittoria Molini, calzature e pizzeri e ci sarà una piacevole bellezza di questa straordinaria cantante che si farà apprezzare grazie alla potenza e alla meravigliosa voce che la possiede. Iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e un salto.